Torna sfolgorante a Teramo il Maggio Fest, il festival di primavera che da 30 anni offre incontri con la letteratura, il cinema, il teatro, la musica e l'arte. Un viaggio che dura un mese e che esplora ogni volta nuove curiosità nel campo della cultura del nostro tempo. Curatore dell'evento e regista teramano Silvio Raclio che da anni trova la forza creativa ed economica per organizzare una macchina dello spettacolo così complessa e così affascinante. Anzitutto apriamo con la letteratura e con i libri, sono tre scrittori ospiti del Maggio Fest e proprio alla luce di Teramo, città che legge, abbiamo voluto invitare Marco Lodoli, Sandra Petrignani e Italo Moscati. Segue invece naturalmente il cinema che c'è il 5, Giuseppe Piccioni con l'Ombra del giorno, magnifico film recentissimo del 2022, Torna a Teramo e con lui naturalmente ci sarà, speriamo, anche Scamarcio. Altri appuntamenti con la musica e diciamo anche il cabaret, il signor G, uno spettacolo praticamente su un omaggio a Giorgio Gaber, oddio come siamo liberi. E poi abbiamo una novità su Cassandra, sulla profezia, sulla guerra, sulla condizione alternativa delle diverse, della donna in questo caso, in una drammaturgia di Donatella Ferretti che è una intellettuale ma soprattutto una donna molto sensibile ai problemi del sociale. Voglio ricordare che dal 2019 è assessore alla cultura al comune di Ascoli, anche qui accompagnata da un'attrice con delle percussioniste e con l'aiuto di dei video a Spazio 3 Teatro, presenterà questo spettacolo molto intrigante. La chiusura del nostro omaggio è con una grande mostra che nell'Arca, in questi locali, a 30 anni dalla nascita del Maggio Fest, sarà dedicata all'inventore del fauno, il nostro segno, Stefano Canulli, e a lui dedichiamo attraverso gli affiche, ma soprattutto gouache, bozzetti originali, una carrellata di questo suo segno così significativo. La trentesima edizione del Maggio Fest di Teramo è stata supportata in primis dall'amministrazione comunale, dalla regione, dalla provincia e dalla fondazione Tercas. La parola d'ordine è rinascita culturale del capoluogo.